Sì, sono molto contento per l'assist Ciccio. Sono molto contento perché non ho giocato per tre mesi. In Slovenia non ho giocato in december. Poi circa i primi 50 giorni da quando lui è in Puglia ha spiegato di essere molto contento di aver trovato un clima sul campo che non aveva mai visto in Slovenia. Di fatto è un campo con tanti spettatori, non giocava da diversi mesi e quindi è molto contento per questo. È circa la prossima partita di Cittadella, partita complicata perché loro sono su in classifica ma spera di poter giocare nuovamente titolare.